Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Notizie dal web e non solo di oggi, giovedì 3 febbraio. Una voce si alza da tutte le marinerie d'Italia ed è una voce che chiede di essere ascoltata. Da Sastri Levante, Piombino, Taranto, Ancona, Chioggia e da tutta la categoria si alza l'allarme di un settore, quello della pesca, messo in ginocchio dal caro gasolio. Ora non sono le restrizioni imposte dall'Unione Europea a essere al centro dell'attenzione. Quelle restano sempre la spada di Damocle per la categoria. Il problema che si presenta ora è più urgente e immediato. Rischia di avere ripercussioni già da subito. Si tratta dell'aumento sconsiderato incomprensibile dei carburanti che sta facendo diventare proibitivo uscire in mare. La situazione ora sta diventando seria. Gli armatori devono garantire il minimo salariale ai marinai, ma devono uscire in mare rientrando nelle spese. La spesa per il gasolio è quella che incide maggiormente sui costi ed ora è diventata insostenibile. Tutti ricordano le agitazioni e gli scioperi del 2012 che videro i pescatori affiancare la protesta degli autotrasportatori. Tutti subissati anche allora dall'aumento del carburante. Allora le marinerie unite bloccarono i porti, i mercati e i rifornimenti alle navi. A Chioggia vennero restituite la capitaneria di porti e i ruolini d'equipaggio. Allora le agitazioni portarono i loro frutti. Infatti nel 2012, dopo 20 giorni di protesta, il prezzo del gasolio venne abbassato. Ora si pensa di replicare e la categoria prevede di mettersi in movimento unita alla ricerca di una soluzione del problema minacciando agitazioni nel caso in cui nessuno ascolti la protesta che si alza. Il problema è all'ordine del giorno tra i pescatori delle varie marinerie d'Italia, decisi con maggior forza a far sentire la propria voce. Si chiedono come faccia al comparto dei trasporti, il comparto dell'agricoltura a tacere. Ora si chiede alla politica di intervenire, di cercare un rimedio alla situazione. Il prezzo del gasolio continua ad aumentare molto più velocemente del prezzo del petrolio al barile. Le parole non sono più sufficienti, le marinerie italiane chiedono fatti. Da ieri, mercoledì 2 febbraio, è riaperto al pubblico l'ex batteria San Felice. Lo scorso 28 gennaio è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo necessario perché il pubblico possa accedervi. Gli oriari ed apertura, garantiti dalla ditta Mosella, proprietaria dell'area, erano stati definiti con una delibera di giunta a dicembre del 2020. Nei mesi di febbraio, marzo, aprile, ottobre, l'apertura della batteria sarà dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18. A maggio, a settembre, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 20. Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio il complesso resterà chiuso per manutenzione. Il lunedì e il martedì saranno giornate dedicate alla pulizia dell'area e allo sfalcio dell'erba. Pertanto l'ex batteria in quelle giornate rimarrà chiusa. Manutenzione e vigilanza sono a carico della proprietà dell'area, come a suo carico la vigilanza e la manutenzione programmata dei manufatti di interesse storico. La società Mosella è orgogliosa di annunciare l'apertura al pubblico della struttura, seguita un impegno non solo economico. La riqualificazione dell'area ha seguito le disposizioni del demanio e della sovrintendenza, enti che la ditta Mosella ringrazia, come ringrazia il Comune di Chioggia, per aver, oltre che vigilato e controllato, anche collaborato e supportato chi si è fatto carico dell'acquisto di un bene patrimoniale. Il sindaco Mauro Armelao si complimenta per il recupero, ringraziando la società Mosella per il lavoro eseguito, che permette una riqualificazione dell'area di pregio ambientale, mettendola a disposizione della città e dei turisti. Sia la proprietà che il sindaco si augurano che l'area sia utilizzata in modo consono da chi ne fruirà, nel rispetto di un bene messo a disposizione del pubblico. A Borgo San Giovanni, in via Togliatti, nei pressi di Laguna Service, vi è stata segnalata la mancanza di energia elettrica ieri nel pomeriggio. Sembra che l'interruzione della linea sia stata provocata involontariamente dagli stessi operai che vi stanno lavorando. Mentre tiravano un grosso cavo per ripristinare un nuovo lacciamento, ne hanno rotto uno preesistente, causando la mancanza di energia elettrica e il disagio conseguente a tutto il quartiere e quindi alle scuole, che qui hanno la loro sede. Ieri sera gli operai stavano ancora ripristinando la situazione. Una settimana un po' sfortunata per condotte e cavi elettrici dopo il tubo del gas, tranciato lunedì scorso da una benna in centro storico a Chioggia, oggi è toccato quindi a Borgo ad avere qualche disagio. Gli errori possono sempre capitare, ci sono tanti cantieri all'opera per tutta la città, per sistemare pavimentazione, a modernare le linee elettriche, per mettere la fibra, per migliorare gli scarichi fognari. È assolutamente tutto un vantaggio collettivo, un disagio che avrà comunque i suoi frutti appena questo disagio terminerà. Sarebbe un problema che non ci fossero questi lavori. Aver reso pubblico il fatto che ha visto protagonista il giovane che chiede soldi nei negozi con la scusa di aver perso il borsallo nell'acqua, ha fatto sì che venissero alla luce molte altre occasioni in cui ciò è accaduto. Sono mesi infatti che i giovani girano tra i negozi usando lo stesso copione, arrivando addirittura a lasciare la carta d'identità come garanzia in una pizzeria in Viale Mediterraneo, dove la carta d'identità si trova da mesi. Ci possono essere molti motivi per i quali i giovani si ponen in questo modo. Dietro potrebbe esserci anche la necessità di denaro per rispondere a una dipendenza. Ma di fatto non sembra commettere reati, non sembra aver risposto con minaccia che si è rifutato e non sembra avere storto denaro ad alcuno. Giusto quindi rendere noto che ci si può trovare ad affrontare una simile richiesta, ma senza voler scatenare una caccia alle streghe. In merito ai comuni candidati a un titolo di capitale, Costa di Rovigo è stato selezionato tra i comuni finalisti per il titolo di capitale italiana del libro per il 2022. Per il comune Rodigino la candidatura è una grande conquista che si riflette nel Veneto, terra che il presidente di regione Luca Zaia, nell'esprimere le sue congratulazioni, ha definito di lavoro e di cultura. Il premio è stato istituito nel 2020, vede coinvolti otto comuni italiani, cui progetti sono stati selezionati per il titolo. Zaia si congratula per l'impegno che la città rodigina ha messo in campo rappresentando la regione in modo autorevole agli occhi di tutta Italia.